Cambiamo decisamente pagina, incontro con i vertici del Demagno, ieri per il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso al centro dell'attenzione, il destino di tutti gli edifici pubblici in disuso che non producono introiti alle casse regionali, ad intervenire il Direttore Generale del Demagno che ha parlato dell'istituzione di un fondo immobiliare, vediamo. Da un lato si pensa a quelli che sono gli edifici presenti, in questo caso nel Comune di Pescara, si pensa ad ottimizzare il patrimonio, in qualche modo si cerca sempre di fare cassa, questo è stato un incontro per cercare di capire cosa si può fare di questi edifici e allora le richieste quali erano? Ma noi sappiamo che lo sviluppo deriva dall'utilizzo migliore possibile del patrimonio immobiliare, poi dall'utilizzo migliore possibile delle risorse finanziarie e poi delle idee che mette in campo la classe dirigente. In una logica diciamo di piena iniziativa attiva, lo faremo questo all'Aquila per due caserme che sono in cammino dal punto di vista delle procedure per ridarle al godimento della città, così come lo faremo con un bene di proprietà patrimoniale della regione a Teramo, l'ex manicomio, così come lo faremo a Chieti per la cittadella della cultura, così come anche su Pescara. C'è il tema del comando provinciale dei carabinieri a Pescara, ma anche il tema della caserma di Cocco che con compiutezza deve entrare nell'utilizzo dei cittadini di Pescara. Dopo aver ascoltato quello che ho reso conto dell'Abruzzo, ho detto che l'Abruzzo ha un primato in Italia, qual è? È quello di avere assolto e approfittato di quello che è il federalismo demaniale, cioè il trasferimento gratuito dei beni dello Stato verso gli enti territoriali. Siamo al 90% del trasferimento di beni, molti beni che devono essere usati, devono essere recuperati, valorizzati e usati in maniera efficiente. In Abruzzo sperimenteremo anche un fondo immobiliare di ampia dimensione, area vasta, quindi regionale, dove gli stessi sindaci potranno provare a valorizzare i beni che normalmente non si riescono a valorizzare con la semplice vendita. Per fare in modo che questi beni dello Stato siano innanzitutto utilizzati per svolgere la funzione pubblica e laddove non sono più ritenuti strategici, possono essere usati da altri soggetti, anche privati, per svolgere funzioni di interesse pubblico o comunque valutati positivamente dai consigli comunali e dalla parte politica del territorio.